Il gioco d'azzardo è davvero una grande emergenza sociale e va affrontata come tale? Sì, io stamattina scrivevo nel mio post quotidiano che sembra un argomento non da campagna elettorale, in realtà lo è moltissimo perché ha due fattori che incidono profondamente sulla campagna elettorale. Uno, il fatto che ormai si tratta di una piaga sociale. Due, il fatto che questo clima di incertezza complessiva, di nebulosità sul futuro, di persone che non riescono a capire bene cosa fanno della loro vita, aumenta di smisura questo culto della dea bendata, che in realtà poi tanto bendata non è, perché si rivolge quasi sempre contro coloro che sono afflitti da questa vera e propria dipendenza. e quindi credo che anche qui la politica c'entri e come lo testimoni il fatto che nel 2013 la Regione Puglia ha fatto un primo passo avanti con una buona legge regionale che ha punti molto importanti e di cui le voglio segnalare uno, anzi due, uno pedagogico e uno sanzionatorio. Quello pedagogico riguarda il fatto che nelle sale giochi ci dovrebbe essere un angolo, un corner dedicato ai rischi del gioco d'azzardo patologico. In realtà io, diciamo, in questo senso sono molto anomalo perché non ho mai messo a piedi in una sala giochi, però dubito molto che questi angoli siano stati istituiti. In correlazione a questo obbligo e ad altri obblighi previsti dalla legge, sono previste delle sanzioni la cui combinazione spetterebbe ai comuni. E la cosa interessante sarebbe che gli introiti finanziari di quelle sanzioni dovrebbero essere reinvestiti in piani sociali per la lotta al gioco d'azzardo patologico e per altre piaghe sociali. Quindi, voglio dire, i comuni, in questo caso, se prendessero sul serio questa legislazione, avrebbero già una potente arma nei romani di dissuasione e di reinvestimento, un po' come accade, per i beni sottratti alla mafia, riutilizzati contro la mafia per valenze educative. Potrebbe essere questo qualcosa che innesta un circolo virtuoso a fronte di un circolo veramente vizioso. Il titolo di questo convegno, di questa chiacchierata, se vogliamo, è proprio vizio o dipendenza. Non è poi così scontata la risposta, perché purtroppo paghiamo anni in cui tutte le dipendenze patologiche, quindi anche le ultime, sono state spesso confuse come vizio, come un'accezione morale di stigma e quindi di eliminazione del problema. Questo ha determinato uno scarso impatto dal punto di vista terapeutico, sia perché si è disconosciuta l'importanza del fenomeno, sì sociopatico, ma come anche malattia, sia perché ovviamente poi ci sono state soluzioni non efficaci. Purtroppo ci troviamo in un momento in cui la promozione degli stili scorretti di vita supera quelle degli stili corretti, per cui qualunque occasione è opportuna per riportare il focus sulla problematica.